Camminano, rasanti ai muri, soli autobus, si sedano tra i primi, non parlano, tenendosi le mani, si voltano, di scatto a un tratto, ti guardano, gli occhi grigi, campeggiano, poi scartano di lato, si alzano, serando i pugni, e scendono. Ho provato a parlargli, si bloccano all'istante, sul posto, e non sembrano sentire, o non rispondono, rimangono perfettamente fermi, e fissano, sempre lo stesso punto, immobili, come se niente fosse, aspettano, ho provato, il momento opportuno, ho provato a parlargli, si bloccano all'istante, sul posto, non sembrano sentire, o non rispondono, rimangono perfettamente fermi, e fissano, sempre lo stesso punto, immobili, come se niente fosse, aspettano, il momento opportuno, ripartono, passo dietro l'altro, riprendono, a un ritmo lento, monoteco, riprendono, a un ritmo lento, monotono, pianta, pianta... Grazie a tutti.